Sono il dottor Francesco Delle Monache, podologo posturologo e mi occupo della biomeccanica del piede in statica e in dinamica. Attraverso l'ausilio del taperulano zebris analizzo i carichi pressori e la simmetria della natura. In particolare con la videografia studio il movimento delle articolazioni. La valutazione barocodometrica e posturale è indirizzata al bambino, l'adulto, l'anziano nonché acido. I cui vantaggi sono il trattamento sintomatologico doloroso del TR come ad esempio allucevago, metatarsagia, fasciopatia plantale, spina calcaneale, miglioramento della performance sportiva, prevenzione degli infortuni nonché ridilibrio della postura.